Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi vi parlerò della recensione della serie tv di One Piece Prima di iniziale con questo video, piccola premessa Per chi è nuovo vi invito a iscrivervi al canale Per chi è ovviamente è nuovo, non c'è solo l'iscrizione obbligatoria Ma anche ragazzi, l'iscrizione alla campanella Attivate la campanella notifiche, se no arrivano i pirati che mi fanno un culo tanto Senza offesa E ovviamente ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere la vostra su questa serie tv Poi seguitemi su Instagram E ragazzi, mi raccomando, rimanete sempre attivi Detto ciò, iniziamo questa recensione Piccola premessa sempre Io ragazzi non sono un fan di One Piece al 100% Conoscevo già la serie da bambino Per i cartoni su Italia 1 e Italia 2 So che è ispirata ai manga giapponesi Una sorta di fumetto comunque, per chi non lo sa cos'è A me piace tantissimo la cultura giapponese Spero un giorno comunque di poter andare a visitare il Giappone Sarebbe il mio sogno E amo tantissimo il sushi Tendo a precisarlo, come tanti Però, insomma, non sono tanto fan dei manga Scusando l'ignoranza E conosco un po', diciamo, One Piece Non tanto, ma un pochettino, per fortuna Grazie anche alla tv che ci ha insegnato a vedere questa serie animata Che io tornavo dalla scuola E mi rivedevo One Piece il pomeriggio a pranzo Allora, One Piece è una serie che sta spopolando al momento su Netflix Di quest'anno Ed è ragazzi ideata da Steve Meda e Matt Owens E' appunto una serie targata Netflix Ed è l'adattamento televisivo dell'omonimo manga Fatto da Elishiro Oda Elishiro Oda, ragazzi, è il creatore, diciamo, di One Piece Nella serie veramente animata E ovviamente, ragazzi, racconta la storia di questa ciurma Comandata da Cappello di Paglia Che va alla ricerca del One Piece Del tesoro del re dei pirati E diciamo Gold Roger Che, insomma, spingerà il nostro personaggio A voler intraprendere questa esperienza Per, ragazzi, diventare colui Che sostituirà Gold Roger Ovviamente non so se Rubber ci è mai arrivato Perché io, ragazzi, spero ci sia arrivato Perché non segue tanto la serie Fatemelo sapere voi Io, ragazzi, siete fan di One Piece Fatemi sapere, appunto, se lui è riuscito a diventare re dei pirati Io, l'anno scorso, ho iniziato a vedermela da capo La serie, però, a una certa l'ho dovuta interrompere Perché non ci può stare tanto più dietro Però, insomma, sono sicuro che Labber Abbia comunque attuato la sua missione, credo La trama, per farla in breve, racconta Che di questa serie Netflix Che si ispira, ovviamente, agli episodi di One Piece Della prima stagione La leggenda di Gold Roger Dove, appunto, chi è Gold Roger? Nell'universo di One Piece Sarebbe la copia palese, ragazzi, di Jack Sparrow Solo che è un po' diversa Gold Roger, se vogliamo dirla tutta E, diciamo, è un capitano Che diventa importante, diciamo, per quel periodo storico Nel mondo, diciamo, di One Piece Dove, ovviamente, diventa re dei pirati E viene catturato Bene condotto per un processo E poi, ragazzi, giustiziato Direttamente alla condanna Dopo quest'arresto suo Prima di essere giustiziato Giustamente Inizia a lanciare una sfida Perché prima di esaurare le sue parole Un tizio Gli chiede Dove è il tuo tesoro E lui, ragazzi, tipo Ridendo Spaventandosi tanto Spavento Ma me non so parlare Cerca, insomma, di Ridere alla morte Ma allo stesso tempo, ragazzi Si prende il gioco della gente Perché uno gli chiede Dove è effettivamente il tesoro E lui dice Non lo troverete mai Se volete cercatelo E inizia così La leggenda del One Piece Che poi viene alimentata da tutti questi pirati Che partono alla ricerca di questo tesoro Che non sanno dov'è Perché, giustamente Lui voleva dirlo Ma non lo dirà mai Perché a parte lo giustiziano Ma poi, ragazzi Non lo dice a prescindere Perché da lì nasce proprio il mito La storia di One Piece Di questo mondo Che ha quattro mari Un unico pezzo di terra E un mare insidioso Pieno di creature assurde E ragazzi pirati Della peggior specie E lì conosciamo ragazzi Rubber Dopo questo primo episodio Che tratta sia la storia di Lord Roger Che anche un po' di Rubber Conosciamo la figura di Cappello di Baglia Vi dico la verità Non parlerò degli episodi Parola in generale Mi è piaciuta tantissimo Questa prima stesura Della stagione di Netflix Ispirata alla prima stagione Del cartone Perché Non è preciso al cartone Fa delle cose Penso che nel cartone Non ci sono state E ragazzi Veramente Un adattamento Fatto veramente A stile dei Pirati dei Caraibi Attenzione Perché Mi ricordava moltissimo Pirati dei Caraibi One Piece Mi è piaciuto tantissimo Questo adattamento E poi vedere Ragazzi Insomma Questo Questa serie animata Che prende vita Ragazzi E Insomma Da cartone Si diventa addirittura Serie tv È qualcosa di assurdo Addirittura È una serie tv Che Insomma Si adatta All'insidia Insomma Di una serie animata Cerca comunque Di tenere i testi Tra l'altro È una serie È un momento Che è più vista Di Netflix Signori Perché comunque Non solo Noi guardando La serie tv Conosciamo Come è il mondo Di One Piece Conosciamo anche Un po' Come funzionano I frutti Del diavolo Conosciamo un po' Anche i vari personaggi Perché abbiamo Sanji Zoro Nami Asop Conosciamo anche I primi nemici Diciamo Di Cappello di Paglia Dal pirata Clown Buggy Diciamo Al gruppo Dei pesci uomini Dei uomini pesci Comunque Comandati di Arlov Comandati da Arlov Conosciamo appunto Le prime battaglie Che dovrò vivere Cappello di Paglia Mettendoci anche La marina Che gli dà Diciamo Fiora torce Dall'altro Conosciamo anche Garp Che è il nonno Appunto Diciamo Di Rubber Che gli dà All'inizio La caccia Per farvi capire Insomma Molti aspetti Ci sono C'è tanto Da dire Signori Credetemi Io forse Non sono Un esperto Del settore Però Quello che mi sento Di dire Che mi è piaciuto Questo adattamento Mi è piaciuto Forse è stato Più Guardabile La serie tv Che il cartone Con la verità Come modesto Parere Di ignorante Che non sa Diciamo Nulla riguardo Sul tema Di One Piece Però Con le mie parole Posso dirvi Da sempliciotto Che è stata una serie Secondo me Molto bella E Molto interessante Io l'ho vista La sera E poi l'ho finita Ieri pomeriggio 8 episodi Che mi sono visto Mi pare 3-4 La sera E restanti 4 Il pomeriggio Devo dire Che mi è piaciuta Come serie tv Mi ha tenuto Incollato Non è che cosa Che non ho gradito Diciamo Di One Piece Della serie tv Ispirata Alla prima stagione È il fatto Che sbagliavano La pronuncia Di alcune cose Di alcuni personaggi O Che sbagliavano Alcuni piccoli Dettagli Del cartone Ma Ci può stare Ragazzi Ci posso mettere La pietra Ovviamente Sopra È una serie tv Che sta dando Ovviamente Molto filo da torcere Anche a Stranger Teens Attenzione A Stranger Teens Che io amo E poi Tra l'altro Io ragazzi Faccio il cosplay Di Hopper Che non lo sa Sono Diventato Insomma Il personaggio Di Hopper A tutti gli effetti Io lo porto in fiera Della prima stagione La versione sceriffo C'è un mio shorts Che è uscito Di recente E praticamente Secondo me È una serie tv Che secondo me È adattata È portata Diciamo Su Netflix Ha dato Un riscontro Positivo Si può dire È una serie tv Che è riuscita Insomma A cambiare Insomma Anche chi non conosce One Piece A fargli avvicinare A questo mondo Perché la trama Ragazzi È molto semplice Inizia la caccia A One Piece Rubber A tutti i costi Vuole comunque Avviare questa avventura Trova Una piccola Ciurma Di persone fidate Una nave Lago in Mary E ragazzi Inizia E parte Per questa avventura E incontra Anche le prime insidie Ragazzi Nulla da dire A riguardo La trama La trama è veramente bella Mi ricorda Moltissimo Un po' Pirate dei Carabili Devo essere sincero Mi sono sentito Nostalgico Con giorni detto Dico la verità Signori Che dire È una serie tv Che consiglio di vedere Sì Gli do un bel 9 Di incoraggiamento Non gli do Un 9 e mezzo Ne 10 Ma un 9 positivo Perché mi è piaciuta L'ho vista online Perché Netflix Non ce l'ho più Mi dispiace Ma Ragazzi Per varie totte motivi Ma sono torta Però È stata Una serie tv Che mi ha interessato Pure se l'ho vista A parte Da Netflix È una serie tv Che è comunque Insomma Rispecchia Diciamo Quello che è il manga Un po' Lo rispetta Anche un po' Il cartone animato Anche se non ugualmente I doppiatori Purtroppo storici Non ci sono Tanto più Della serie tv Tranne qualcuno Che magari Fa qualche vocina Così di ritorno Ma Vedo Che il doppiaggio italiano Non è manco male Signori Non mi posso lamentare Niente Concludo dicendo Che One Piece Eppure se io non sono esperto Ed è uno Che è sempliciotto Come me La conosce Perché ha visto Solo i cartoni Un po' Quando ero bambino L'anno scorso Tipo ho ripreso Un po' La serie da capo Ma io ragazzi La serie Poi non l'ho più Continuata Poiché ragazzi Tre impegni vari E poi mancanza di tempo Non sono riuscito Più a continuarla Però ragazzi Sicuramente Prima o poi Ritornerò a vederla Fatemi sapere Se Rabber Appunto è diventato Cappello di Pagli Effettivamente è diventato Il re dei pirati Se è riuscito A colmare il suo sogno Non lo so Senza fare grossi spoiler Vorrei solo sapere Se ci è riuscito Ma più che altro Per lui Perché ragazzi Era un sogno Che lui si teneva Da tempo Dentro E spero Insomma Che porterà Nuove persone A conoscere L'adattamento Che i manga Ci regalano Ci sono tantissimi Manga Che raccontano Tante storie E molti fanno Di questi manga Vengono appunto Poi portati A diventare Delle serie animate E diventano Delle serie Che secondo me Entrano Nei guinnessi dei primati Un po' come Le pellicole Di alcuni film Che sono Categolarmente Patrimono storico Questo vuol dire E vengono Etichettate Come pellicole Storiche Insomma E' una serie Che io consiglio Di vedere A prescindere Diciamo Come tantissima Attrise tv Faccio l'esempio Di Stranger Things Se potete Guardatela Vedete un po' Come vi pare Perché Insomma La trama E' molto convincente Il doppiaggio E' molto convincente L'unica cosa Che non è stato convincente Sono alcuni adattamenti E alcuni cambiamenti Diciamo Di percorso Ma ci sta ragazzi Si cerca di portare Un materiale nuovo Un materiale che sfida Comunque Le avversità Del pubblico E magari Prova a dare Un cambiamento Per diversi Per diversi Carsi Dal prodotto Uscito tanti anni fa Perché Quanto sarà One piece Sarà uscito nel 2000 Per esempio Come cartone Sicuramente Comunque Trasciando questo Io vi consiglio Di vederla Questa era la mia recensione Semplice Su one piece Non sugli episodi Ma in generale Sull'intera stagione Mi è piaciuta 8 episodi Molto belli E mi hanno Tenuto in colato Dallo schermo Perché ragazzi Era una storia Veramente bellissima Sembrava di essere Troppina Di ai Caraibi Signori Anche se trattava La serie animata Giapponese Del manga In serie Con qui cartone Detto ciò Vi ringrazio Vi ringrazio per l'attenzione Fatemi sapere La vostra È una serie Che sicuramente Merita Di essere vista Non date per scontato Anche la serie tv Attenzione Perché Magari Insomma Molte serie tv Non sono adatte Però ci sono serie Che vanno Secondo me Viste E valutate bene Io per esempio Faccio un esempio Soltanto Che non c'entra One piece E con stranger teens Io per esempio Una serie Che vi consiglio Di vedere Per esempio Sono per esempio I banditi Di sham Per esempio Una serie tv Che su netflix Un po' è stata criticata Ma è stata poi accettata Oppure La serie tv Nightfall Presa dai cavalieri templari Una serie tv Morto Anche quella Molto bella Storicamente parlando Comunque Tralasciando questo Ci sono tantissime cose C'è tanto da dire Però Non è quello Il momento Signori Questa era la mia recensione Sulla serie tv Di one piece Se vi è piaciuta Da sempliciotto Quale sono Vi invito A farmi sapere La vostra E se ci sono fan Di one piece Scusatemi Non ammazzatemi Ma Non sono Un fan Di manga Cento per cento Conosco Solo un po' La serie Perché mi hanno visto Da bambino L'ho ripreso L'anno scorso Non ho più Continuato a vederla Per motivi Però Sicuramente Un futuro Maggiore La rivedrò E Mi goderò Questi episodi Che mi hanno Intrattenuto La scorsa estate Ragazzi Sono stato A vedermi One piece Non vi scherzo Comunque Tralasciando questo Vi ricordo Che la serie Di one piece È una delle più viste Al momento Su netflix Sta superando Stranger teens Siamo a pari passo Chissà che se Con la stagione 5 Stranger teens Diventa più alta Stranger teens Che one piece Però comunque Staremo a vedere Signori Vi ringrazio Per l'attenzione E ci vediamo Al prossimo video Grazie per aver visto Questo video Ciao